Due avvisi pubblicati dalla Regione Abruzzo del Fondo di Sviluppo Regionale del FES, FSE, di altri programmi relativi alle strategie territoriali, che sono una parte dei programmi dei fondi europei, li ha presentati il Governatore Marco Marsilio. Ci sono due macro aree, ha spiegato, una per le grandi città, delimitate secondo alcuni parametri e quindi sono state definite otto aree urbane funzionali. Oltre ai quattro capoluoghi ci saranno Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, avranno 40 milioni a disposizione. 39 milioni di euro invece sono stabiliti per le aree interne. Ci saranno ulteriori 27 milioni dal Fondo Sociale, a disposizione per incentivare la nuova imprenditorialità, per avere più servizi per scuola e infanzia, per la promozione del territorio e per ridurre gli svantaggi delle aree interne. Il primo luglio a Pescara ci sarà il Ministro Zangrilli inoltre per presentare Open Hub, Abruzzo Generatore di Competenze, nell'ambito dell'Hub delle Competenze. Partono invece oggi con circa 80 milioni quasi equamente suddivisi le strategie territoriali, sono una quota parte riguardo alle aree urbane, le grandi città, con le loro città-territorio, con il loro contorno di comuni di cui le grandi città, i capoluoghi e i grandi centri urbani fanno da capofila e le aree interne, le aree marginali, le cosiddette aree interne, che anche lì con comuni capofila vedranno la possibilità di accedere a decine di milioni di finanziamenti in questi anni per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e quindi il marketing turistico e la promozione del territorio anche attraverso i prodotti tipici. Intanto sulla questione ZES, Confindustria ha lanciato l'allarme sui ritardi, ma ci sono buone notizie perché le sei opere ZES insieme con le altre opere delle regioni meridionali sono state inserite nella sesta rata e nei fatti messe in salvaguardia sotto il profilo delle risorse. A giorni con un decreto ad hoc saranno passate alla regione. L'Abruzzo ha già dato la sua disponibilità a diventare stazione appaltante di secondo livello e quindi a prenderle in carico. Il presidente Marco Marsilio respinge le critiche e le preoccupazioni al mittente si stanno andando avanti, dice. Tutto questo allarmismo lo ritengo anche fondamentalmente infondato, peraltro strumentalizzando le parole del direttore di Confindustria si mettono a parlare di ZES e quelli che hanno fatto un disastro. C'erano delle paure sul rispetto dei tempi per i fondi PNRR per queste sei opere, sono stati fugati dal buon lavoro del ministro Fitto, che la regione ha accompagnato silenziosamente senza fare gli strepiti che qualcuno richiede e rivendica. Quindi nella cabina di regia del PNRR che è stato fatto a Palazzo Ghigi è stato verificato il raggiungimento di questi obiettivi e quindi le sei opere vanno avanti.